Il punto sul presente è uno sguardo sul futuro in occasione dei 50 anni di Codial, il consorzio di difesa di Alessandria contro le avversità atmosferiche. Tra gli interventi del convegno che si è svolto a Tortona c'è stato quello in collegamento da Torino dell'assessore regionale all'agricoltura Marco Protopap che nell'ambito delle misure per combattere l'emergenza siccità ha annunciato la pianificazione di invasi e mini invasi anche per l'Alessandrino. Alessandra Dallacra. Il consorzio di difesa Alessandria infesta per i 50 anni di attività sul territorio a tutela degli agricoltori contro i danni dalle attività atmosferiche. Ed è stato il museo Orsi di Tortona, meraviglioso tempio che rende omaggio al mondo agricolo, ad ospitare la tavola rotonda che ha messo al centro il tema dei cambiamenti climatici e i rischi e le opportunità in agricoltura. Alle nostre spalle oggetti storici legati proprio al vostro impegno, al vostro percorso che è iniziato, dicevamo, mezzo secolo fa, che ha raggiunto tanti traguardi anche con tante tribolazioni. Sì, sicuramente sì. Il consorzio di Alessandria è nato nel 1972 e ha fatto il primo anno di attività nel 1973, quindi sono giusto 50 anni. Oggi è una giornata di festa per tutti i soci, ovviamente perché il consorzio è dei soci e quindi bisogna festeggiare con loro. Sono stati 50 anni di tantissimi cambiamenti. Si è partiti con una semplice assicurazione, oggi si è arrivato ad un'assicurazione addirittura che copre 9 eventi, con tante modifiche da parte del Ministero, della politica, alcuni interventi della comunità europea. Quindi c'è stata tutta una storia. Io penso che il consorzio sia fondamentale per un'azienda agricola per cautelarsi da quello che sempre più sono le avversità atmosferiche, diverse per i cambiamenti climatici. Quindi importante è essere assicurati. Io sono nel consorzio dal 2003. Dal 2017 Mariano Pastore ha voluto che io diventassi presidente, mi ha ceduto la presidenza e quindi oggi per me è un onore festeggiare anche per lui i 50 anni di questo consorzio del quale lui era stato fondatore. I festeggiamenti per il mezzo secolo di Codial hanno coinciso ieri con la giornata mondiale dell'acqua e con la sollecitazione da parte dello stesso consorzio di Alessandria e delle associazioni agricole di categoria nei confronti della politica per cercare i metodi migliori per tutelare al meglio questo bene prezioso. La giornata si è conclusa con un ringraziamento particolare e corale all'agronomo Marco Castelli, storico direttore Codial, da qualche giorno in pensione ma che è stato sottolineato resterà a supporto del mondo agricolo.